Direttore generale ci siamo occupati in questi giorni della problematica che interessa il reparto ortopedia ormai da diversi mesi in sofferenza dal punto di vista dei medici ne sono solo tre in servizio il solo primario è abilitato a fare le reperibilità notturne e insomma le soluzioni tampone in attesa dei concorsi che sappiamo si stanno facendo non stanno portando quel sollievo sperato ma noi ci stiamo lavorando io oggi sono di nuovo a vasto per vedere anche altri primari non è solo l'ortopedia non è solo diciamo il discorso diciamo del pronto soccorso e delle emergenze anche del programmato per cui oggi diciamo mi occupo anche di nuovo del blocco operatorio nel senso degli anestesisti perché chiaramente prima mancano gli anestesisti poi gli ottopedici per cui diciamo la coperta è sempre corta noi abbiamo adesso ai primi di maggio il colloquio con gli ottopedici speriamo tre che vengono in mobilità per cui diciamo speriamo che superano gli esami e poi che scelgono vasto e chiaramente c'è un concorso a tempo indeterminato aggregato nel senso di tutto 4 le ase della regione abruzzo di cui fa capo l'as di teramo che diciamo spero che si sprighi appunto a dire anche questo concorso chiaramente diciamo anche in cardiologia ma anche in cardiologi in essenza in ginecologia siamo messi anche male però diciamo stiamo lavorando chiaramente questo non è è una scusa noi puntiamo molto anche sulla riqualificazione diciamo del contesto lavorativo anche in attesa del nuovo ospedale di vasto che sarà un bellissimo ospedale del sud dell'abruzzo e chiaramente con questo speriamo di attrarre sia perché facciamo il concorso in tempo indeterminato che cerchiamo di investire anche in elettromedicali in contesto sul vecchio ospedale con una prospettiva fra qualche anno di lavorare in un bellissimo nuovo ospedale di vasto e questo chiaramente diciamo è il nostro programma di lavoro non diciamo lascio più solo al direttore sanitario che sarebbe diciamo la persona preposta la ricerca del personale mi sto impegnando in diretta persona anche il fatto che praticamente ogni due settimane passo da vasto è un segnale che sta nell'agenda di priorità del direttore di questo momento c'è un messaggio anche da lanciare ai tanti medici che insomma a volte prendono posti temporanei poi vanno via e poi non restano quindi insomma affinché questo ospedale questa struttura e questo territorio siano attrattivi ma è quello che cercavo di dire anche sugli ortopedici cardiologi così via nel senso noi dobbiamo fare gli avvisi ma un medico partecipa all'avviso quando lui sa che la siena fa anche un concorso a tempo indeterminato per cui noi diciamo in questo momento sia nei concorsi aggregati a livello regionale che nei concorsi diciamo di cui non c'è un'aggregazione siamo libri come azienda cercheremo di dare questo messaggio che intanto vieni a tempo determinato ma sappi che c'è già in preparazione un concorso a tempo indeterminato per cui diventa la tua sede di lavoro per sempre